Button ormai sta arrivando, Alonso lo vede e credo che davvero potrà far poco, pochissimo sul lungo rettilineo alla fine dell'oruge del Radion quando Button con le gomme morbide che già sono più performanti e in più con l'ala mobile posteriore non avrà problemi a passare la Ferrari di Fernando Alonso e sfumerà così il quinto podio consecutivo per il pilota ferrarista che lo ricordiamo era andato, era arrivato, dunque vediamo un po' no, 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 era sceso dal podio Alonso già nell'ultimo Gran Premio in Ungheria in cui era arrivato, no, sto dicendo una fesseria quella era la pollo, scusate, resetto tutto, Alonso sì, era riduce da quattro podi consecutivi, sentiamo via radio cosa dicono a Rosberg e non ho capito cosa hanno detto a Rosberg perché sono arrivato soltanto alla fine e non ho capito cosa hanno detto a Rosberg